Un mese e mezzo fa sembrava impossibile, il Lecce era lontano, Catani e Trapani potevano al massimo giocarsi la seconda piazza. Oggi invece il campionato di Serie C parla indiscutibilmente siciliano. In testa ci sono ancora i giallorossi pugliesi, ma è solo un primato virtuale perché Catani e Trapani hanno una partita in più da giocare e invece di stare due punti dietro potrebbero ritrovarsi un punto più su. Il testa a testa insomma potrebbe diventare tra le due siciliane e quello scontro diretto in calendario al massimino suona già a dispareggio promozione. Guai ad abbassare la guardia però perché il Lecce è ancora vivo e al di là della crisi dei risultati, figlia di un po' di appagamento ma anche di un calo delle prestazioni, ha le armi per rialzarsi e il potenziale per far paura. Lo scontro diretto Catani a Trapani del 22 aprile sulla carta potrebbe poi essere un jolly proprio per i pugliesi. Occhi aperti dunque, ma anche la consapevolezza che adesso sono le due siciliane a comandare e a essere artefici del proprio destino. La C parla siciliano però anche grazie alle altre protagoniste, al Siracusa che sabato ha fermato proprio il Lecce e che corre per un grande piazzamento playoff nonostante deferimenti e penalizzazioni. E all'assicura Leonzio che i playoff li vedeva solo come un bel sogno e che adesso ci crede davvero. Triste è solo l'Akragas che ha ufficialmente salutato la Serie C. Per regolamento l'ultima in classifica ha comunque la speranza dei playoff, ma solo se il distacco dalla quatt'ultima resta sotto gli otto punti. La sconfitta con il Francavilla, oltre alla pioggia di penalizzazioni, ha reso già aritmeticamente incolmabile la distanza. Il finale di stagione avrà poco senso ad Agrigento.